12 kg di carburante al secondo passano dalla macchina della Intertechnique, un'industria francese specializzata anche per il riportamento in volo degli aerei, diciamo passa nelle stelle serbatoie delle monoposte, viva! Sparicchello ha mantenuto la sua posizione nei confronti di Michael Schumacher, ma di Leuves ha perso la posizione nei confronti del Raikkonen, quindi molto vicini comunque i due piloti della Ferrari quando c'è stato il secondo pit stop appunto di Michael Schumacher.